ragazzi siamo tornati sulla terra questo mi sembra dopo una partita bella ben giocata contro l'andria andiamo a pagani contro la gelbison squadra che per me a livello inferiore rispetto al taranto cosa che stasera non si è vista abbiamo perso 3 a 0 contro una squadra non di un grande blasone con tutto rispetto per la gelbison e per i suoi tifosi la squadra che un taranto che giocava bene poteva sicuramente fare molto meglio di quello che mi so stasera prestazione veramente non eccellente una prestazione anzi molto deficitaria una difesa cola brodo che è diventata la peggiore difesa di questo campionato squadra senza partita con senza schemi squadre che non sapeva che per scipigliare e da quello che ho visto ho visto più una squadra che il confronto a partita contro l'andria non ha saputo reagire dove col preso solo tiri alti e tiri diciamo sbilenchi invece la gelbison è stata brava a sapere sfruttare tutte le occasioni capitate a abitate al momento giusto che ha segnato un 3 a 0 che proprio una scusa in una squadra che proprio cioè io l'ho detto sempre non ci ludiamo della prestazione contro l'andria non ci iludiamo di nulla perché veramente se ho detto sia sia pagani faceva una prestazione non da taranto diciamo subito è sì però io sono sempre con i piedi fissati per terra perché sempre questa squadra aveva dei pregi e più difetti che stasera ho visto parecchi difetti della squadra la difesa ripetiamo che va assolutamente rivisitata quindi luca evangelisti datti da fare cioè datti da fare trovare dei difensori che onestamente si continuano così dopo quattro giornate dopo cinque giornate a prendere 13 gol l'anno scorso dopo cinque giornate abbiamo super giù 9 o 10 dice quest'anno abbiamo molto di più se abbiamo sono tenuti a fine campionato ne abbiamo prendere molto perso più di 40 anche perché così manco di salvi con questa con queste prestazioni non puoi perdere i punti con queste squadre con cui di giochi la salvezza però ci chiaro il taranto per me se gioco così non è da decimo posto e la salvezza se per i punti contro squadre così da sono tipo la gelbi sono retrisse venezia nel momento contro l'andolo e tre punti c'è tutto quello zero perché altrimenti sarebbe stata una catastrofe cioè da ci sarebbe il derby sabato contro il foggia che il foggia sa anche come noi uno punticino in più però sta ucciso c'è ha preso quattro metà pescare pescare a blasone come ca perché raga le più forti sono catanzaro pescare il cortone e uscita la testa con il taranto incontrerà la danziera che ci ha incontrato ci ha suonato di santa ragione incontriamo pescare il crotone sarà il treplo ci uccideranno come se non fare solo loro quindi detto ci ho visto la battita veramente sono molto deluso perché pensavo un'altra un altro tipo di reazione dalla parte della squadra un altro tipo diciamo stessa scia del risultato ottenuto in casa contro l'angra sesto gioco c'è ripeto non facciamoci c'è non c'erano la libide delle infortuni perché l'infortunio c'entrava niente c'erano solo di foto che c'erano penso che un diabete cambiava la partita o altre che mancava di c'è la squadra è quella noi siamo proprio limitati come squadra perché sesto capuano ammesso ci sono delle grandi lacune alcune parti del campo perché se non devo individuare la partita in vari spunti non c'è nulla da salvare oggi guida spento guida non ha fatto diciamo quello che sa fare di solito avere incantare non giocate gol e quando manca questo manca manca la vittoria mancano i ponti manca tutto perché visto che questo taranto è un guido indipendente e seguita va male ormai tutta la barracca se io spiego che col foggio c'è una prestazione molto elevata tipo contro l'andrea perché non fare vittorie perché si inizia a perdere altri playoff rischia anche di fare un campionato proprio di bassa classifica essere sempre aggrappati a questa ringhiera da salvarsi dalla retrocessione perché il taranto lo meriterebbe gli schiaffi dei punti parecchi in passato le serie b mancate minuti parecchi in passato di progressi fatte non mantenuto anche troppe in maniera eccessi passato con il tarantino meritiamo questo io non so che il tifoso dice sono del taranto quando vince non sono del taranto non lo perde io sono sempre lo stesso per troppo faccio sia quando si vince sia quando si perde anche quando si pareggia che un pareggio questi tempi al taranto servirebbe molto gli spiego a foggia arrivano i tre ponti una prestazione diciamo molto c'è una prestazione sontuosa perché questo 3 a 0 è una sconfitta molto diciamo riduttiva che ti riduce che ridimensiona al cospetto di perdere 2 a 1 per una partita con battuto metodo del greco direttamente è un maestro molto soddisfatto la restazione del taranto adesso no adesso sono reti che critiche non prepari con la gelbi sono 3 0 quindi io faccio un invito veramente a dire che tutta tutta società deve dire seriamente in cosa pecchiamo c'è vannucchi con l'andri è stato un top player e con gelbi sono stato peggio di rosso con monopoli e catanzia con questa bellezza di otto gol a partita ci dobbiamo veramente fare un esame di coscienza tutti quanti a dirigenza dire dai dobbiamo intervenire in questo reparto primis la difesa perché non si possono vedere c'è tra di giro subiti dobbiamo avere anche ci dobbiamo fare anche partite cui dobbiamo subire di meno non dico tutte le partite prendere zero gol perché sarebbe bello vincere con pareggiare però c'è tre gol quattro gol basta basta c'è non queste goleate eccessive perché per me sono sconfitte pesanti 3 a 0 e 4 a 0 c'è dai dobbiamo tenere noi ci dobbiamo basta prendere sempre botte botte ma anche noi dare e vincere partite contro le squadre che sono al nostro stesso livello partendo vittoria contro pescare il trotone ma meno contro foggia contro squadre diciamo messina quelle che sono vicine a noi devono tutte vincere perché la salvezza la pretendo e la voglio perché questa squadra al momento non è da playoff se non playoff prendiamoci dei schiaffoni che non manco non ci dimenticheremo né mo e né mai quindi piedi per terra ben saldi obiettivo salvezza e non ci indudiamo dopo delle vittorie bisogna essere al taranto anche quando si perde purtroppo sta sempre perso molto male contro una squadra ripeto inferiore al taranto detto questo ragazzi buonasera e speriamo di fare altri video sabato con più soddisfazione c'è il derby arriva e foggia è sempre un derby bisogna vencerlo bella